Sono entrato Bonsieri, sono dispiaciuto comunque a Marika, era in gamba, il prosciutto era più grande di lei come faceva. La prima prova sulla Francia era molto difficile, avevamo poco tempo quindi ho spinto più che potevo e alla fine sono riuscito a chiudere il piatto ed ero soddisfatto del mio piatto. La prova che mi è andata peggio è stata la prima, ho preso un bruttissimo voto, 3, perché non ho centrato bene la tematica della prova, sono andato un po' fuori traccia, ho fatto un piatto non troppo bello e quindi 3. La pasticceria non è il mio ramo e quindi ho fatto il meglio e mi ritengo più soddisfatto del mio lavoro. Allo chef ospite dovevamo comunque sia stupirli e sembra che li ho stupiti, ho fatto nevicare anche a 40 gradi. Mi sono un po' rovinata con la terza, ahimè, vediamo la valutazione dello chef però adesso è in carica. Ho diventato i camerieri e cucinare davanti ai commessari. Savini è andata un po' così cos'ha perché comunque ero nuovo, abbiamo avuto delle problematiche nostre, non sapevamo bene come gestire la situazione, mi sono preso io a carico la cosa. Ho sbagliato, me ne prendo la colpa e quindi mi spiace per i miei compagni di squadra.